Ciao ragazzi io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo scopriamo per scoprire insieme a voi Just Ignore Them ovvero fondamentalmente ignorali e basta si tratta di un simil horror che ci vedrà a vestire i panni di un bambino di 8 anni tormentato dai mostri una premessa sicuramente un po' più incoraggiante però confido che il gioco sia meritevole per quanto molto vecchia scuola per certi versi per cui non perdiamo tempo in preambola andiamo a vedere com'è e speriamo bene come sempre spero che sia abbastanza angosciante questo gioco contiene scene di natura inquietante così come il suo linguaggio inappropriato vabbè ci siamo tristemente abituati ciao prima che iniziamo la mia storia vorrei esaminare con te alcune cose per interagire con qualcosa usa il tasso sinistro del mouse per guardare qualcosa utilizzare il tasso destro del mouse muovi il mouse sulla parte superiore dello schermo per controllare l'inventario accedere alle impostazioni di gioco e salvare il gioco ora torniamo alla mia storia avevo 8 anni la prima volta quando è accaduto ma non vuol dire che questo era successo prima solo questa notte era diverso la traduzione non è proprio il massimo loro normalmente parlano con me giocano con me e a volte cantano per me ma l'unica cosa che ricordo di più le loro facce bene oh che bello ma che carino non mi è mai piaciuto quell'orzacchiotto ma che faccia c'ho vabbè si muove da solo bene sveglia sono le 7 televisore mamma dice che non dovrei guardare la tv prima di andare a letto lei dice che mi fa fare brutti sogni la tv vabbè giocattoli ehi il mio giocattolo robot non funziona però non ha batterie ma questo mi aiuterà a dormire vabbè presa d'aria perché non dovrebbe avere una presa d'aria in camera vabbè vediamo c'è un mostro che vive anche lì bene lui non è mai veramente uscito fuori penso che odia il profumo della mamma non posso fare niente con questo tana del top ma che casa c'hai armadio l'armadio non si può non si può cliccare è una cosa drammatica c'è un mostro che vive lì la mamma dice che non è reale ma io l'ho visto e non gli piace la mia torcia vabbè andiamo a letto ok bello e accogliente mammina per favore potresti spegnere le luci dov'è la mamma ok mio piccolo ragazzo speciale sei pronto per andare a letto si mammina ok tesoro buonanotte ricorda se vedi un mostro non mi chiamà basta ignorarlo lo so mamma bravo ragazzo ti voglio bene ti voglio bene anch'io mammina bene quindi sta per succedere vero ah io non sento nulla non riesco a dormire perché ma ma perché ma con tutte le cose che uno può fare a de notte non ho bisogno di niente altro per aiutarmi a dormire meglio che vada a letto allora perché te sei alzato non riesco a dormire vabbè allora usciamo perché non il televisore si è acceso facciamo the ring ecco riesco a vedere qualcosa bene è una faccia perché ma ma vabbè dovrei spegnere la tv ah già perché è un gioco che si adatta alle nostre scelte sì io la spegnerei dov'è il pulsante di spegnimento dov'è sempre stato bimbo ok ci siamo adesso sicuramente non riesco a dormire bene mi chiedo perché la mamma non mi ha sentito perché la mamma è morta no ci nascondiamo nel tornarmadio no andiamo a vedere dov'è la mamma mamma la porta non si apre non vedo niente di speciale beh dovrebbe esserci una porta orzacchiotto scommetto che questo ha a che fare con te orzacchiotto ripilante perché lo zio ti ha dato a me comunque probabilmente per festeggiare il suo nuovo lavoro in quella società di giocattoli la colpa dell'orsacchiotto la porta si è aperta che cosa è stato ricorda quello che dice la mamma basta ignorarli e allora gioco con i giocattoli non ho bisogno di nient'altro vabbè meglio che vada a letto poi vada a letto non si possa sveglia sono le 7.40 di sera o di mattina perché come mamma ha detto basta ignorarlo eh sono morto e non riesco a dormire ma scusate mamma dice che non dovrei guardare la tv prima di andare a letto lei dice che fa fare vabbè che devo fare non posso fare niente con questo la presa d'aria c'è un mostro che vive anche lì bene la sveglia sono le 6 sono morto e rinato cassetto c'è un certo numero graffiato su questo cassetto 840 i cassetti sono bloccati però vabbè non riesco a dormire ah figlio mio sono le 7 bene mamma dice che non devo guardare la tv bene televisore c'è un mostro ma che devo fare aiuto giocattoli come mamma ha detto basta ignorarlo basta chiudere la porta e andare a cercare la mamma non guardare dentro bene andiamo a cercare la mamma avevo solo 8 anni allora non avevo idea di quello che mi aspettava ma nulla poteva prepararmi per quella notte bene il mostro è uscito dall'armata oh siamo fuori da quest'incubo dalla stanza odio odio quando chiude la porta ho bisogno di trovare la sua chiave di riserva mamma sta a fare le porcate dentro la stanza perché per essersi chiusa a chiave avendo un bambino di 8 anni mi sa che giusto quello sarà a fa credenza che cos'è questo è un cacciavite la mamma non vorrebbe mai farmi giocare con questo fino ad ora vabbè il bambino si è cavato gli occhi riesco a sentire qualcosa dentro forse dovrei no ma per chi ma per chi vabbè checkpoint non c'è niente ah no checkpoint non vale qui c'è la faccina sorridente per cui no bagno è chiusa tutto chiuso in questa casa il bambino è prigioniero c'è un piccolo strappo nella foto sarà meglio non peggiorarlo giustamente se no mamma sono un mucchio di libri noiosi non posso fare niente con questo questo cosa la lampada chiamiamo la polizia non posso fare niente con questo non è capace di usare il telefono bene cucina con una una cosa rassicurante sopra si è attivato tipo tutto questo è il coso della segreteria telefonica dovrei controllare il messaggio telefono c'è un messaggio sulla segreteria telefonica è la mamma questa non era la prima volta che ricevevo un messaggio dalla mamma a tarda ora ma mamma non stava nella stanza ehi tesoro sono solo a fare la spesa ho trovato il tuo giocatore preferito nell'armadio della biancheria al piano di sopra l'ho lasciato lì per te sarò a casa presto ti voglio bene oh forte deve essere il mio giocatore ma scusate la mamma non l'aveva messo a letto perché va a fare la spesa dopo averlo messo a letto dice che il messaggio è stato lasciato due minuti fa è troppo buio per essere andata a fare la spesa e beh sapevo che aveva lasciato il messaggio e chi era il mistero si infittisce sono un pochino confuso allora forse posso prendere le batterie da questo la mamma non lo saprebbe comunque lei non guarda mai la tv c'era qualcosa di strano con la tv nella mia camera da letto per spegnerlo potresti fare l'altro viso le stesso ma per accederlo dovrei usare il telecomando l'interruttore è rotto la mamma ha acceso la mia tv ma che cazzo non la sta dicendo sto bambino vabbè vediamo cosa c'è qui non solo no solo un libro strano con una cosa lucida rossa sul lato c'era quel libro che tirava la mia attenzione ma ogni volta che avvicinavo la mia mano potevo sentire qualcosa sussurrava nel mio orecchio momento sbagliato bambino vabbè non c'è problema cambio vado porta sul retro no c'è del sangue sul vetro sta colando il sangue sul vetro forse dovrei restare dentro per ora sì direi di sì penso che stanno sbudellando cose fuori da casa nota è un appunto della mamma ciao tesoro volevo solo ricordarti assicurati di alzarti presto per andare a scuola ricorda la sveglia è di 10 minuti più avanti ci vediamo domattina all'amore di mamma mamma accidenti non sono più un bambino ma perché la mamma va sto cominciando a capire forse che lavoro fa la mamma ma non lo voglio ancora dire cosa c'è qui dentro ehi è la scaletta della mamma lei lo usa per raggiungere gli armadi cassetto della cucina microonde forse c'è qualcosa qui dentro niente è finito dentro il bimbo 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 scaldato vabbè dove ci troviamo allora qui hanno già fatto tutto microonde dove ci stanno le facce non me devo avvicinare ormai è chiaro non posso fare niente con questo il secchio della monnezza cestino mi mangia anche questo che cos'è questo è una delle cose puzzolenti di di lavanda della mamma si mi sa che la mamma allora abbiamo la lavanda abbiamo il fatto che esca di notte nonostante il figlio sia a casa vabbè aspetto aspetto a tirare conclusioni ma avete già capito a cosa alludo cassetto della cucina cosa c'è qui dentro niente allora perché tutto questo cinema cosa c'è qui dentro niente ecco e cosa c'è qui dentro niente se lo dico io che vabbè cassetto nulla qui solo la mia la rubrica telefonica della mamma con quei clienti no allora andiamo fuori visto abbiamo le pile bene telefono non posso niente con questo questa questa diavoleria eh il telefono allora ufficio perché c'è un ufficio vabbè non perché mi faccio domande è chiusa oh cacca aspetta c'è un certo numero graffiato sotto la maniglia della porta 820 quindi 840 di prima è chiusa ma c'è un certo numero no credenza non c'è nient'altro qui vabbè adesso c'ho le pile vado a pilare di qua bene posso spegnere la tv la mamma dice che non dov'è ah ancora vabbè ragazzi io devo dire che per il momento mi fermerei qua perché non so dove sbattere la testa in questo particolare momento per cui in caso preferisco fermarmi e vedere cosa avete da proporre voi per capire come poter procedere detto ciò ragazzi niente io vi lascio il sondaggio in alta testa come sempre vi lascio il link alla pagina assente di just ignore in descrizione ovviamente fatemi sapere che ne pensate perché è un gioco parecchio strano c'è chiaramente qualcosa da scoprire non è ben chiaro cosa sia ma non lo so mi rimetto alle vostre idee ai vostri suggerimenti alle vostre teorie per il momento vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao